Siamo qui nella redazione Bicchio News dove oggi sono venuti a trovarci i ragazzi del liceo scientifico di Macerata. Che impressione avete avuto della redazione e del mondo del giornalismo? Abbiamo avuto un'impressione molto buona perché siamo stati accolti bene, abbiamo sfruttato la settimana culturale per venire qui a visitare questa redazione e sin da subito si è avuta una buona impressione. Abbiamo visto le postazioni di lavoro con tutti i computer, ci è sembrata gente molto competente, coloro che lavorano qui, quindi sì abbiamo avuto un'ottima impressione. Inoltre abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il signor Picchio che ci ha spiegato un po' tutto il suo lavoro, tutto ciò che c'è dietro questo lavoro perché magari la gente non esperta non sa tutto ciò che c'è dietro, dietro una foto, tutto ciò che si rischia anche perché ci sono gli appostamenti. Cioè aspettare molto tempo per avere una buona foto. Quindi sì, nel compenso è stata un'ottima esperienza, sono contento di essere stato qui. Ci penserete per il futuro come un eventuale lavoro? Non so, vedremo, però sicuramente è una buona opzione. Ok, allora noi vi ringraziamo per esserci venuti a trovare e vi facciamo un in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Grazie.